La Commissione CFLAB di Cassa Porense affronta tematiche riguardanti l'erogazione di fondi europei, sia diretti che indiretti, che possono interessare la categoria. L'avvocatura infatti non è spesso al corrente delle opportunità offerte dalla normativa vigente in materia di fondi europei e di erogazioni che potrebbero senz'altro facilitare l'attività dei singoli iscritti a Cassa Porense e in genere dei singoli professionisti. L'obiettivo è quindi di rendere nota la normativa, di rendere note le opportunità a tutti e questo verrà effettuato attraverso pubblicazioni, sia attraverso il sito di Cassa, sia attraverso altri social networks. Altrettanto utile sarà la creazione di relazioni sempre più approfondite e intense con istituzioni a livello ministeriale e regionale per approfondire le tematiche oggetto di studio.